Anche ieri sera niente numero legale al Consiglio Comunale di Sciacca che di conseguenza non ha potuto procedere all'approvazione del regolamento sulla raccolta differenziata che i consigli comunali su disposizione della Regione erano chiamati ad adottare entro il 7 luglio scorso. Dopo la seduta di martedì sera andata deserta, ieri occorrevano 12 consiglieri per dare il via ai lavori d'aula, ma la maggioranza era presente con 11 consiglieri e i 6 consiglieri di opposizione hanno preferito abbandonare l'aula. Oggi è il presidente del Consiglio Comunale, Calogero Buono, ad esprimere grande amarezza per ciò che è successo ieri sera. All'ordine del giorno dice c'era un punto molto importante e in conferenza dei capigrupper è stato deciso di dare massima priorità al documento, ma così non è stato e continuando di questo passo è davvero difficile andare avanti. Ieri sera inaspettatamente il numero legale è caduto perché l'opposizione ha deciso di abbandonare l'aula e la maggioranza non aveva i numeri per proseguire la seduta a 12 consiglieri comunali. Dico inaspettatamente perché la conferenza dei capigrupper che si era tenuta la settimana scorsa aveva definito un programma di lavori in aula che sembrava essere di larga intesa, visto che c'era questo adempimento che veniva da una ordinanza del presidente della regione che riguarda l'igiene e la raccolta dei rifiuti nel nostro territorio, vista anche l'emergenza degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Quindi sembrava pacifico che si potesse trovare una intesa sullo svolgimento dei lavori in aula, invece non è stato così e pertanto sono oggi ad esprimere la mia amarezza perché non è la prima volta che succede e quindi in questo scorcio finale di consigliatura ha auspico che ci sia un'inversione di tendenza e si possa trovare insomma un modus operandi per svolgere i lavori in aula nel miglior modo possibile. Presidente del Consiglio Comunale che poi invita tutti i consiglieri ad un maggiore senso di responsabilità. Sento l'esigenza di lanciare questo appello al senso di responsabilità e dico non voglio assolutamente puntare il dito contro nessuno, non c'è assolutamente da parte mia un richiamo a una parte politica, però è pur vero che spesso magari ci sono anche consiglieri comunali che auspicano che ci siano, che si tengano consigli comunali, che si parli e si affrontino temi che riguardano la nostra comunità, salvo poi non presentarsi in aula per discuterne. Quindi auspico che in questa parte finale di consigliatura si possa trovare una sintesi e quantomeno per quanto riguarda i temi che sono di carattere generale e che non hanno strettamente rilevanza politica, si possa trovare un'intesa fra le diverse parti in aula. Poi ci sarà un momento in cui evidentemente le singole parti politiche possono svolgere la propria azione politica anche facendo rilevare quelle che sono le deficienze dell'amministrazione. In ordine al regolamento sulla raccolta differenziata che avrebbe dovuto essere trasmesso alla Regione entro il termine del 15 luglio è questo infine l'orientamento del Presidente di Sala Falcone Borsellino. I termini dell'ordinanza commissariale non sembrano essere perentori, quindi se la conferenza dei capigruppo definisce un percorso in cui si possa trovare un'unità di intenti, io mi voglio determinare nel riportarlo in aula e approvarlo. Non vorrei vedermi calato dall'alto, dalla Presidenza della Regione, un regolamento che magari non sia confacente a quelle che sono le esigenze del nostro territorio.